Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, continuiamo la nostra avventura su Vagrant Story nella scorsa puntata siamo riusciti a battere il Drago Blu, grandissima battaglia dove addirittura sono stato anche un po' in difficoltà, non difficilissima perché gli attacchi comunque riuscivamo a pararli e a counterarli ma difficile perché comunque il boss aveva veramente veramente tanti HP fortunatamente con le varie combo siamo riusciti a buttarlo giù e quindi continuiamo l'esplorazione del nostro luogo Ups Allora qui devo utilizzare Fixate Perché devo immobilizzare quella pedana Ecco, e da qua possiamo passare Quindi porta blu, quindi nuova zona Ecco qua, queste sono tipo delle fognature Attenzione, dei guardiani Che tecnicamente dovrebbero essere forse fantasmi Perforazione fisico e malvagio Innanzitutto gli mettiamo Degenerate Così abbassiamo la potenza Visto che Ecco, mettiamo forse giù Ole Qui abbiamo una bella Un bel punto di salvataggio Qui cosa c'è? Sbloccata la porta Ah, potrebbe essere la porta della... Ah no, qui non so dove sono Non mi interessa saperlo Me ne vado Via Probabilmente un checkpoint Una scorciatoia per qualche altra Per qualche altra zona vecchia Che per il momento non mi interessa Eh, qua comunque Devo utilizzare altre armi Perché stiamo parlando di Dovrei utilizzare la dolce morte Naso di cane Mazza pesante di agane Condutente a due mani Eh, sì Dovrei utilizzare la dolce morte Perché Poi metto lo scudo Esatto Qua faccio già Parecchi danni Con due colpi lisciotto Praticamente Barbuta di ferro Non mi interessa Qui c'è una porta bloccata Che era quella Con la chiave d'oro E qui da dove si va Visto che c'è una porta blu Quindi Vuol dire Cambio di zona Allora Qui porta blu E cambio di zona E qua invece Dove andiamo È una zona nuova Questa comunque Perché Non le ricordo Queste Allora ragazzi Qui avrete visto sicuramente Un taglio Perché Ho praticamente salvato Fatto abbassare Il mio risk E adesso Possiamo andare avanti Dopo controlleremo Quelle porte blu Ovviamente Però per il momento Però direi che Per il momento Va bene così Diciamo che Dopo il primo colpo Mi viene abbastanza semplice Fare le combo Mando di maglia In ferro Non mi interessa Ma questo da dove cazzo È spuntato fuori Ecco Già vedete Prendendo qualche pipì Questa lancia Diventa veramente forte Già sta facendo Parecchi danni Ah qui c'è L'armeria Quindi direi Altro crafting time Direi crafting time Apri la porta Con il sigillo Di Katleia Ah Quindi l'armeria L'abbiamo sbloccata Con un bel sigillo Preso in precedenza Uh Qua posso lavorare Legno, cuoio, bronzo Ferro E agane Quindi adesso qua Si vola Cioè posso Posso craftare tutto Qui c'è un forziere Ma questo è un forziere Con contenente roba? Ah no Questo è lo scrigno Giustamente che Si deposita Al solito Quindi andiamo su Modifica Anzitutto facciamo Ripara E finalmente L'equipaggiamento È riparato Adesso invece Divertiamoci un po' A fondere Le cose Che abbiamo trovato Quindi vediamo Sta mazza delfante Che cosa ci dà Eh Stocco Non ci siamo Mazzata sciabbola Nemmeno Scrum Saks Che è una daga Tra l'altro Invece io mi ricordo Forse che Esecutrice Unita con la Claymore Mi davo Una nuova arma Ecco La schiavona 31 Si Mi dava La schiavona Molto più forte Dell'esecutrice Esatto Questa me la ricordavo Questa combinazione Adesso Vorrei vedere Questa schiavona Si è unita Con l'esecutrice No Mi dava Lo spadone Quindi Adesso Forse Dovrei fare Questa Shamshir Con L'esecutrice No Allora Esecutrice Con Non mi ricordo No Questo è Spadone Spadone Shamshir No Quindi già Abbiamo ottenuto Un'arma comunque Nuova No Spadone No Questa era La spada Vichinga No Questo mi dà Lo stocco No No Neanche questa No Neanche questa Non mi ricordo Comunque Mi metto a trafficare Un attimo E ci vediamo dopo Ok ragazzi Ho smanettato Un po' con le armi E sono riuscito A creare L'unica cosa Relativamente Importante Questa qui La schiavona Che È un'ottima arma Come potete vedere Attacco forza 36 Addirittura Quindi Tantissima roba Speriamo appunto Di fare Parecchi danni Adesso Perché appunto Mi servono i danni Mi servono Mi servono Assolutamente i danni Guardate che bella Questa spada La porta non si apre Da questo lato Ok Non vorrei Non vorrei aver fatto Tutto questo giro Solo per sbloccare Diciamo Questa armeria Anche se non credo Perché adesso Qua dovrei continuare Esatto Qui non so cosa c'è Forse un'altra armeria Non credo Officina metalworks Puoi combinare I seguenti materiali Argento E damasco Oddio Non me la ricordavo Proprio No Aspettate Aspettate Qui adesso Eh Qui adesso Posso unire L'argento E il damasco Ma il problema È che io L'unica cosa in argento Che ho È questo E non mi sembra Una grandissima Novità Anche perché Il damasco Se non sbaglio Si otteneva Dal Eh Non me lo ricordo Da cosa si otteneva Cioè il damasco E l'argento Qua si unisce Tanta roba Mi devo ricordare Effettivamente Dove si trovava Il damasco Cioè come si faceva Il damasco Perché questa è un'ottima Un'ottima fonderia Un attimo Che me lo vado a cercare Ok ragazzi Ho guardato un pochino In giro Per adesso Per adesso Lasciamo perdere Ok L'importante è che sappiamo Dove venire Nell'eventualità Per craftare Il damasco E ovviamente Tutto ciò che ci serve Allora Mettiamo forza down Comunque ho scoperto Che praticamente Questa qui La spada che ho ottenuto Adesso La schiavona È utilizzabile Eh Diciamo come arma Quasi Eh Come arma quasi Precursore Se così la possiamo Definire Per l'arma finale Quindi già È buona Come Come cosa Ok Facciamo aumentare Madonna Il risk Ecco E ora qua Sono fottuto Perché ho il risk A 100 Parata A meno 50% Bene Ho il risk Al 100 Ora voglio Vedere io Come dovrei Colpirlo Con il risk Al 100 Giusto Beh Ottimo Non subisce Nulla come danni Cioè Fammi capire Cioè Lui dalle magie Non subisce danni Praticamente Vabbè Lui usa solo magie Lento Eh Eh 7% Oddio L'ho colpito Col 7% Non ci credo Comunque qua abbiamo trovato Praticamente Due fonderie E queste fonderie Saranno molto utili Perché Da una Otterremo gli oggetti In agane Mentre invece Qui Possiamo craftare Sia gli oggetti In argento Che in damasco Ora il damasco Tecnicamente Si ottiene Dall'agane Più L'argento Quindi devo trovare Praticamente Un'altra Eh Crafteria Se così si può dire Quindi un'altra Officina Dove Possa combinare L'agane Con l'argento Una volta che possiamo Appunto Combinare l'agane Con l'argento Possiamo ottenere Il damasco E poi ovviamente Tutti gli oggetti In damasco Qua possono essere Ricraftati Perché Per l'appunto Non è un problema E possiamo Farlo tranquillamente Però Diciamo che il problema È appunto Trovare il damasco Cioè Trovare Una fonderia Che possa unire Entrambi Allora Vediamo qua PP Ok Ne stiamo già Prendendo Ok Stiamo qua Qua c'è qualcosa No Sai com'è Magari un forziere Ma nascosto Questi ora Si potenziano Giustamente Allora Vediamo Già se faccio danni Sì Già sta iniziando A fare danni Con i primi PP Che praticamente Sto prendendo Andiamo di forza Down Giusto per Facilitarci Un po' Il lavoro Esatto Ecco Ecco Così qua I danni Già sono Belli Consistenti Anche se Comunque Devo ammettere Che hanno Parecchi HP Hanno Hanno veramente Ok Ok Meno male Che l'ho ucciso Perché avevo Pochissimi HP Ero fottuto Barbuta In agane Non male Non male Non male Ok E adesso qui Tecnicamente Dovremmo raggiungere Un'altra zona Perché se vedete Qua C'è il pallino Blu Apre la porta Con la chiave Di bronzo Ottimo Quindi vuol dire Che finora Stiamo andando bene Avendo sempre a disposizione Le chiavi Che ci servono Per andare avanti Sicuramente Poi otterremo Qua la chiave D'argento Perché Stiamo andando Praticamente a aumentare Quindi chiave di bronzo Chiave di argento Magia silenzio Silenzio Vuol dire Che non posso Utilizzare Madonna mia L'isciotto Praticamente Madonna mia 130 Attacco critico Bulbo del mana Uh figo Qua mi danno Il bulbo del mana Direi tanta roba Ho qualche oggetto Per togliere Il mutismo Cura veleno Cura torpore No Credo di no Potrei fare Dispel Su me stesso Però Ovviamente Non ho la possibilità Di poter fare Le magie Perché sono Silenziato Sono in modalità Silenzioso Vabbè Vabbè andiamo avanti Tanto Per ora Se ci sono Questi tipo di mostri Sono abbastanza Forte Oddio Mi sono cagato sotto Quindi Boss È una Cocatrice Là Come si chiama Eh Già faccio Tantissimi I danni Vediamo se posso fare Difesa Forza Down Oddio Cioè Lo disintegriamo Sto boss Ok Drain mind Quindi mi toglie MP Mi interessa Ok Ok Madonna mia Quanti danni 83 Addirittura Eh Giustamente Col 70% Di possibilità Lo manco Bene 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 Sono contento Veramente Oddio Shottato Ah ma non era un boss Era un mostro Ah ecco perché Contiene la magia E Oh Amenta temporaneamente La forza Fighissimo Finalmente Possiamo imparare La magia Eracless Tanta roba Tantissima roba Questa Tantissima roba Ce n'è un altro Qua Di mostro No Questa volta C'è il boss Vedete anche Un bel pezzo Di merda Ah L'ambipaggiamento Da uno Io lo posso fare Almeno Ok Ottimo Adesso mi metto Posso fare forza su Finalmente Quindi Lo sfrutto A dovere Radial surge Livello Madonna mia Ok Ho rifatto Tutta la strada Ho sconfitto Pure il pollo Gigante Adesso Non mi resta Altro Che andare A sconfiggere Quel maghetto Di che prima Mi ha Praticamente Shottato Spero di riuscire A batterlo Perché La sua magia È veramente forte Quindi Volevo sfruttare Un attimo La possibilità Di fare Il magic ward Quindi Di proteggermi Da tutti i danni magici Che subisco Per potermi avvicinare E iniziare La mia sequenza Di attacchi Speriamo Di poterci riuscire Cioè che la mia Strategia funzioni Perché altrimenti Non so che pesci Prendere Ecco Allora Utilizziamo Magic ward Così siamo Difesi Magicamente Lui dovrebbe Spawnare qua Ecco Quindi subito Utilizziamo No Dove è Tarnish Ecco Forza giù Cioè Forza giù Equipaggiamento Down Ecco No Drain mind Sono costretto Ad utilizzare Un altro Magic ward E che bastardo Però Cioè mi fa Dragic mind Dragic mind Proprio Mentre No 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 Dispel Posso provare Silence Ma non credo che Poison mist Dai 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 Manca con L'84% Manca con L'84% E Questo è Pazzesco Comunque Questo è Assolutamente Pazzesco Sconfitto Eppure Oddio Ah ok Pensavo Più 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 Spinoso Invece Sono riuscito A Ad ammazzarlo Subito Praticamente Buoh Meglio 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 Così Map Esplorata 50% Ragazzi Siamo A metà HP Più 4 Verga Dell'Evocatore Collana Di Agales Signore Degli Inferi Sigillo Euleia Quindi Apre una Porta Nella Cava Di Calcare Tonico Del Mana Elisir De Maghi Verga Dell' Dell'Incantatore Direi Che Disassemblo Si Il manico Non mi serve Alla fine Ok Va bene Così Lo spirito Del Lich Parla Ad Ashley Ashley Patroneggia La magia Teletrasporto Uh Teletrasporto Me la ricordo La magia Teletrasporto Praticamente Se non ricordo male Mi dovrebbe portare Se adesso non ricordo male Mi dovrebbe portare Aspetta Degenerate Scusa Dove si utilizzava Come Allora Innanzitutto Utilizziamo I vari Elisir Così MP P1 Tanta Roba Maledizione Cresce Temporaneamente La forza Vabbè Bulbo Del Mana Drain Mind Ok Questo Cresce Gli HP Aspetta Ma il teleport Ora come si faceva Se non sbaglio Si poteva fare Da ogni Da ogni punto Di salvataggio Vero Se non mi ricordo male Era Era Si si poteva fare Da ogni punto Di salvataggio Ora non vorrei dire Una Una cagata Non vorrei dire Una cagata Ma probabilmente Era in quel Modo Allora Continuiamo Ci sono le Bambine Speciali Che con il 78% Di possibilità Di colpire Non colpisco Io questa cosa Del gioco Non l'ho Concepita Non la riesco A concepire Proprio Non Non riesco Proprio A concepire Ragazzi Cioè Alla fine 70% Ma è La maggior parte Cioè Non è che stai dicendo Qua ci vuole La chiave Di ferro Un altro Leech Oddio Radio Surgeon Ti prego Non mi Shottare Oh Sono riuscito A sopravvivere Incredibile No no Devo colpire Il leech Ecco E' quello Che mi da Più fastidio Il leech Intanto sta spada Fa Fa il macello Qui E ora Prendo il ferro E infatti Fa il devasto Sta spada Comunque Fortissimo Oh Un bel forzierino Cosa c'è? Mojito Di bronzo Se la disassemblo Cos'è? Una falchion E una counterguard Falchion Chiavi di ferro Uh Psicodrain Anello del titano Così largo Di essere usato Come bracciale Dei mortali Proiettili di pietra Queste per le balestre Beh si Togliamo Ecco Dardo lungo Lo possiamo togliere Così prendo questi Counterguard Non mi interessa Però abbiamo ottenuto Finalmente La chiave di ferro Quindi adesso Possiamo aprire le porte Con la chiave di ferro Allora Curiamoci un attimo Nel frattempo Bevo un po' di tè Olè E possiamo andare Quindi adesso Possiamo aprire la porta Apri la porta Con la chiave di ferro Ottimo Bene Mi dai Bulbo del mana Ottimo Allora 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 lì a sinistra C'è una zona blu Quindi per il momento Non vorrei andare lì Preferisco andare di qua Anche perché Avendo Avendo aperto Questa porta Adesso posso vedere Ecco Ma a me Chi me lo fa fare Chi me lo fa fare Un altro boss Io e la mia Maledetta voglia Di esplorazione Allora Forza down Che funziona La facciamo volentieri Equipaggiamento down Lo faccio volentieri Mi metterei anche La possibilità Di accrescere La mia forza Ma Ah la fa anche lui Su di me Grazie Gentilissimo Ti voglio Molto bene Ti voglio Veramente Tanto bene Non lo so Che dobbiamo fare Niente Tasti che Impazziscono Eh vabbè Sì E Ripristiniamo L'equilibrio Della forza Ma che Ma serio Cioè ma Seriamente Cioè L'ho mancato Con tutte le combo Che ho fatto Scusa ma Dov'è la mia Quella per Curativo Ah aumenta La forza Eh che Non la posso fare Così ora Mentre che ci sono Mi aumento La forza Ma così A posto di forza Giù Ho direttamente Forza su Ma no Ma che Niente Non lo posso colpire Con le combo E neanche Normalmente No Io sto Impazzendo Esco Pazzo Queste cose E a 12 MP Costa Ma può essere Perché Tipo lui È questo tipo Di mostro Che tipo Vabbè Sconfitto Però può essere Che era lui Proprio il tipo Di mostro Dato che assomiglia Comunque a un samurai Forse era Uno scontro diretto Colpo contro colpo Contro colpo Eccetera Credo eh Poi Non lo so Quasi 2 milioni Di punti Mappa esplorata 51% Classa Sempre la stessa Bonus Agilità Che Va Vabbè Fino a un certo punto Mi serve Ma Niente di che Sigillo Melissa Grimorio Enclare Vabbè E Angelico Ok Va bene Perfetto Quindi Devo andare di qua Faccio ricaricare Un pochino Anche se in realtà Non sono messo Così in male Quindi Direi che mi posso Curare E vado avanti Da solo Tanto Va bene così Il risk Si Si Diciamo Si Si ripristina Da solo Ok Dovrebbe Già Essere Morta Esatto Eh Giustamente Qua Colpire Al 50% E Eh Vabbè Vabbè Niente ragazzi Io Non Veramente Non so Non so che dire Perché Niente Non c'è Col 40% Non riesco a colpirlo Io Non Non lo so che dire Veramente Io Non so che pesci prendere Cioè perché Comunque Oh Cioè col 50% Dovrebbe essere Una su due Io invece qua Non lo colpisco mai Ecco Trappola Folata Veramente Mi danno fastidio Ste cose Perché va bene Il calcolo Delle probabilità E tutto Sempre 50% Uno dice si Viene ripetuto Ogni singola volta Ho capito Però porca miseria Cioè Eh Ecco Il leech Perfetto Una volta che Cade il leech Sono contento Armature a scaglie E io me la piglio Vabbè Ok Hanno bene o male 100 E qualcosa Di hp Quindi Tra l'altro Qui c'è un altro Forziere Che non ho aperto Che forse Non è morto Però Esatto 72 M'ho tolto Ma che cazzo Altro forziere Sigilo Stock Apre una porta Nella cantina Grimorio Tardif Continua la magia Lead Bones Diminuisce temporaneamente L'agilità Ok Orecchini creati dall'antica Per pollare con peca Sul cavallo all'alto Degli dei Asta leggera Di metallo Asta per lancia Degli dei Degli dei Degli dei io sbaglio anche perché dovrei mettere qualcosa dentro il forziere dovrei mettere qualcosa nel forziere appena ne ho l'occasione è che non lo faccio mai perché non lo faccio mai però in realtà dovrei farlo allora equipaggio posto del canto del cigno vediamo un po' cosa c'è collana di youngles che contro i malvaggi dà un bellissimo boost poi anello del titano contro gli umani dà un bel boost e pushpaka dà un boost contro le bestie quindi io direi che per il momento posso utilizzare la collana di agaless visto che la situazione è quella che siamo tutti in mezzo a fantasmi non morti eccetera eccetera quindi direi che facciamo abbassare il risk perché qua veramente anche già con 20-30 di risk non posso più attaccare cioè non diventano tutti tutti che schivano quindi e vabbè e allora sono deficiente io che ricado nella stessa trappola però siccome sono un cretino adesso possiamo andare verso la zona quella blu ok bene questa è crepata bene bene troppo veloce e poi hanno messo gambe quando tecnicamente avrebbero dovuto mettere zambe diciamo che i budget erano quelli che erano ai tempi quindi ci sta allora le altre camere non dovrebbero avere i mostri respawnati perché non sono entrato nella porta blu esatto respawnono solo quando entri nella porta blu quindi adesso respawneranno tutti i mostri ecco magia dark shunt grazie molto gentile che tra l'altro sto quasi morendo e io stavo facendo lo sgargiullo che poi tra l'altro questo mostro che adesso si vede qua no? così che sembra un mostro casuale io l'ho affrontato come boss e l'ho affrontato come boss in una di quelle fantastiche puntate che vi raccontai dove non non ero riuscito a registrare cioè ho registrato la puntata dove ho registrato la puntata e praticamente dove praticamente poi si è cancellato il video cioè mi è rimasto soltanto l'audio e il video si è oscurato è la prima volta che mi succede tra l'altro però vabbè giusto eh lei ale 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 no meteor livello 1 non mi shottare ti prego madonna mia a a si a a Oh E' crepa Allora aspettiamo un attimo Che si abbassi il rischio Perché se ci sono questo tipo di mostri Qua devo stare molto attento a quello che faccio Qui rischio In un non nulla Proprio rischio così subito Rischio subito Quindi un attimo facciamo abbassare il rischio Come vita sono full quindi va benissimo Bene possiamo andare Apri la porta con chiave di ferro Ok perfetto GG Madonna quanto non ho tolto Allora adesso io dovrei andare lì Nella stanza di fronte a me perché Praticamente non è stata esplorata Almeno da come appare lì Cioè nella mappa Praticamente quando io esploro No? Mi si dovrebbe vedere Dove porta appunto L'altra zona Vedete che lì Sulla sinistra ci sono tutto quel segmento Proprio perché l'ho esplorata Mentre invece qua no Quindi Facciamo abbassare nuovamente il risk Nel frattempo controllo Se devo utilizzare Qualche altra arma Perché I pipi Effettivamente Devo caricarli Anche con gli altri Vabbè sì affinità Diciamo non sono messo male Però vabbè Utilizziamo un poco Di affinità Vediamo che cosa abbiamo Mentre invece questa collana Per adesso la posso togliere E mi sa che posso mettere La collana Questo draghi Bestie Questa addirittura Forza 5 Intelligenza 5 Quindi aumenta Aumenta di un bel po' West Ok mettiamola per ora Questa che qua comunque Effettivamente stiamo affrontando Bestie Anche se in realtà Queste sorte di Di lucertoloni Vengono considerati draghi Quindi Utilizzare questo tipo di lancia Va bene Infatti come potete vedere I danni Sono decisamente Più alti Abilità di difesa Ho imparato praticamente tutto Abilità di chain Converte il 20% Degli mp Usate di hashling Danno Agli mp Del nemico No Ecco Questa qua Va bene Perché così guadagno mp Bella Questo non l'ho uccido Non c'è bisogno Oddio Non c'è bisogno Non c'è bisogno Non c'è bisogno Tutto E che però non so se lui viene considerato malvagio Effettivamente Oddio, mi ha tolto pochissimo Bella Bella Eeeh Eh sto scudo Forse non solo lo scudo Ma tutto l'insieme mi ha protetto veramente tanto Mi ha protetto veramente veramente tanto Facciamo abbassare i rischi Perché è veramente altissimo Io purtroppo Delle Le pozioni che mi riducono i rischi Vorrei comunque conservarmele Per eventuali boss Cioè è inutile utilizzare Questo tipo di oggetti Per dei mostri comuni Cioè Non ha praticamente senso Non ha praticamente senso Ok qua possiamo rimettere La nostra lancia affinità Visto che ci sono di nuovo I lucertoloni Esatto Troppo veloce Bene Fuori uno Fuori due E fuori tre E' bello quando Anche con il rischio un po' più alto Hai tanto Quanto borchiato in argento Madonna mia Devo assolutamente Devo assolutamente posare il tutto Questa porta è bloccata con il sigillo Clemantis Sigillo Sigillo Clemantis Ok qua mi sono curato Facciamo abbassare un po' il risk Ora qua se non sbaglio Dovrei uscire Dove ci sono dei soldati Quindi tecnicamente Dovrei cambiare anche l'equipaggiamento Ecco metto questo L'anello del titano E poi Con umani Io dovrei avere questa qua La Shamshir Umani e malvagi Quindi Questa dovrebbe essere ottima Con lo scudo Bello Questo Scudo Scudo normano Che ha tantissime affinità Con tutti E così dovrei essere Diciamo Un passo avanti Ok Usciamo Ah Ecco dove rispunto Beh allora qua ne approfitto adesso Che tanto ci sono le armerie Ci sono le armerie Così deposito Un po' di cose Un po' di cose Ecco Meno di qua Che è meglio Merda Io qua Oserei scappare Non mi lavano pochissimo Con questo Mi lavano veramente poco Allora entriamo nell'armeria Cioè nella fonderia Scusate Ecco Guardiamo nello scrigno Sì Ecco Conserva No Rimuovi Ah no Allora è conservo Giusto Lol Qua cosa devo mettere L'anello salamandra L'anello salamandra Crocif- Ah ecco Conserva Il crocifisso Conserva Conserva Canto del cigno Conserva No Questi Tengo Questo lo tengo Quando Allora In realtà Conservo tutto Ora Direi che Conservo tutto Tranne queste ultime Collane La borbuta Questa qua La posso conservare In quanto Borchiato Voglio vedere Non morti E fantasmi Alto Quindi Per ora Lo possiamo lasciare Tanto Va bene così Poi vabbè Gemme Ne posso portare Un casino Ancora Questo va bene Armi Armi Niente Le devo tenere Là me le tengo Ecco i manici Elsa di curva Guardia incrociata Elsa di curva Guardia incrociata Questo Conserviamo Tutto Va bene Così direi Che ci siamo Sì Sì Salviamo Mentre che ci siamo E per questa puntata Direi che ci siamo Abbiamo fatto abbastanza Quindi direi di staccare E poi dalla prossima Continueremo Ad esplorare Soprattutto a vedere Dove devo andare adesso Perché non ho idea Di dove devo andare E tra l'altro Voglio provare Anche un'altra cosa Voglio provare Il teletrasporto Se come mi ricordavo io Che praticamente Vediamo magia Ecco Teletrasporto Va a qualsiasi circolo Magico Vedete Adesso posso andare Finalmente Da tutte le altre parti Anzi Diciamo Quasi da tutte le altre parti All'officina All'angolo del pescatore Vedete Il mercato in crisi Posso tornare Praticamente In tutte le zone Che Mi servono Quindi Adesso finalmente Posso anche Regolarmi un pochino Andrò a vedere Ovviamente i sigilli Che ho sbloccato Dove mi possono portare Cioè i sigilli Quali porte Mi possono sbloccare E poi ci rivediamo Nella prossima puntata Quindi per il momento è tutto Io vi ringrazio Per essere stati con me E ci vediamo Alla prossima